Guarda chi si vede in giro Ho passato una grande nottata Hai conosciuto Lucy Ah, è irresistibile Sono pazzo di lei Avanti ora Cos'è quel sorriso, si può sapere? Quale sorriso? Dai, su, racconta Allora? Beh, abbiamo soltanto parlato E che cosa ti ha detto? Non tutto quello che avrebbe potuto dirmi, credo Oh, racconta, dai No, 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 tu non sai custodire un segreto Certo che lo so custodire Sicura? Che succede? Non succede niente Noemi, che diresti ai tuoi lettori di un uomo che ti fa intravedere un segreto e poi te lo nasconde? Non ti ho fatto intravedere niente Oh sì? Oh no? Direi che te lo vuole dire Ditelo Noemi Salve! C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? Grazie a tutti. Diana? Diana? Ciao. Lucy. Oh, Lucy. Aspettavamo la tua telefonata. Ho preso un taxi. Vieni, entriamo. Ian! Sveglia, Lucy è arrivata! Cos'è quello? È un ripetitore. Stanno piantando un'antenna televisiva. Per fare il lavaggio del cervello agli elettori italiani. Non ti piace perché ti rovina il panorama? Il signor Bruno... L'hanno costretto a vendre il suo corpo. Quello! Salute! Odio! Destini, God! Desi! Desi, come stai? La mia porcellina, come sei stata da cammino? Abbiamo visto il mago di Oz. Un'altra volta. Ciao, Desi. Ti ricordi di Lucy? Avevi quattro anni quando l'hai conosciuta. Ciao. Cos'è questo? È uno scarabello. Un animaletto simpatico. Porta fortuna. Vieni. Mamma, tu resta qua. Lucy viene con me. Va bene.